Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. È stata approvata la delibera per l'accesso ai contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Lo si legge nel comunicato diffuso nel pomeriggio di lunedì 14 marzo dall'ufficio del commissario prefettizio. La giunta comunale ha stabilito che il fabbisogno complessivo del comune di Voghera per l'anno 2016 sulla base delle quattro domande pervenute è pari ad euro 14.914,02. Successivamente è stato approvato un indirizzo di giunta che prevede l'erogazione per il primo semestre 2016 del buono spesa e dei contributi per canoni e utenze a favore delle famiglie residenti in difficoltà economiche. La somma finanziata per il primo semestre 2016 ammonta d'euro 294.750. I due importanti provvedimenti sono stati approvati nel corso dell'ultima seduta della giunta comunale che si è tenuta il 10 marzo scorso presieduta dal commissario prefettizio Sergio Pompogno e composta dal segretario generale del comune e dai dirigenti di settore. Porta la tua azienda in questo video. Giub TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.giubtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.